L'artista esistenzialista, buonasera da tutti, un doppio lavoro, una collana che abbiamo ricostruito dal nulla, vedete, c'è questa catenella, c'è un cerchio e un prisma, qualcosa del genere, poi l'aggancio è a tre quarti, infine ho riempito questo tubolare, se vogliamo, ecco, dado se vogliamo vuoto, con un occhio di tigre, ve lo faccio vedere un pochettino più da vicino, quindi questa è la catenella, ripeto, lo possiamo agganciare qui o a tre quarti, mi piace qui a tre quarti, ok, poi l'orecchino, il monorecchino, c'è un doppio lavoro perché c'è una parte alta, orecchino con brillantino e parte esterna in gomma o silicone, fate voi, poi abbiamo un doppio orcchino, nel senso che fondamentalmente c'è un primo tratteggio nero vetroso e poi, vedete, la parte finale con questa perla e un doppio aggancio. Vi faccio notare una cosina, signori, qui ci ho dovuto lavorare, scusate, con la lima, nel senso che c'è questa situazione prismoidale nel finale, se la vedete, vetrosa prismoidale, e vedete c'è un gancettino che è stato lavorato con una lima normale, ce l'ho dovuto comunque arrotondare perché pungeva. L'artista esistenzialista, buona serata a tutti. Grazie.